Arriva subito la prima vittoria in trasferta dell'Aquila. 1-0 la cittadella dello sport contro un Sambuceto ben messo in campo che non ha sfigurato, specie nel primo tempo. Mister Ronci cambia solo Camplone per Diop rispetto all'esordio di sette giorni fa. Massimo Epifani lascia un panchina scimia dentro Carbonelli. Il ballottaggio tra i pali lo vince Barbagallo. Fischia Gianluca Frizza di Perugia. Primi 45 minuti tutto sommato equilibrati con il Sambuceto che punge negli spazi e l'Aquila che sfonda spesso e volentieri sulla destra con San Rizzo. Proprio da un'incursione del 19 nasce la prima palla gol di Donato esce ed evita guai peggiori. Primo colpo di scena dopo un quarto d'ora Cassese si fa male dentro Scipioni. I rosso-blu spingono e continuano a creare pericoli sulle fasce e la volta di Carbonelli salva Albanese. L'ex Ranieri lascia sul posto Scipioni provvidenziale Barbagallo che copre lo specchio e fa buona guardia. Non c'entra alla porta invece uno degli ultimi arrivati. Vento la conclusione potente ma non precisa. Lo stesso esito di Nicolò Corticchia che mette i brividi a Di Donato nel quinto minuto di recupero. Episodio d'Amo Viola con il direttore di gara che annulla il vantaggio aquilano ad Alessandro per una presunta carica su Di Donato. La situazione lascia qualche perplessità con i giocatori delle due squadre che non se le mandano a dire. Nella ripresa l'Aquila capisce che bisogna tenere il piede sull'acceleratore. Sponda di Brunetti, smanaccia Di Donato, svirgola la ribattuta Corticchia. Incertezza del portierino 2004 su un cross dalla destra. Gesto tecnico super di Marchionni ma Orlando è ben appostato e nega lo 0-1. Tentativo in girata di Ranieri ma è un tiro estemporaneo di Viola e in verticale. L'Aquila punisce Marchionni in buca per D'Alessandro che arriva davanti a Di Donato e lo batte senza pietà. 1-0 per il Rosso Blu e secondo centro consecutivo in campionato per il numero 20 di Epifani. Gli ospiti inseriscono il pilota automatico e tengono botta. Un unico rischio a tempo scaduto con il cross di ventola per la testa di Ranieri che impatta bene ma largo. Il Sambuceto cresce di prestazione rispetto al K.O. di Città Sant'Angelo ma resta 0. Nella casella dei punti vittoria di spessore e di maturità per l'Aquila. Mister Epifani una bella partita e anche una vittoria convincente nelle occasioni contro una squadra molto forte come il Sambuceto. Sì e sottolineo forte perché abbiamo incontrato secondo me una squadra che è composta da giocatori importanti. o un allenatore importante. Io la temevo molto questa partita perché forse è la prima partita vera dall'inizio del campionato con una squadra che prova ad ambire qualcosa di importante. Loro lo fanno. Oggi mi è piaciuta proprio la autorità della squadra. Abbiamo fatto 20 minuti iniziali veramente molto importanti a ritmo altissimo. Abbiamo creato, abbiamo giocato, abbiamo cercato di fare le nostre giocate e siamo stati bravi alla fine a fare anche un grande gol perché abbiamo fatto un gol bello. Di questo ne sono contento. Continuiamo, archiviamo questa partita e pensiamo già alla prossima perché per noi, ripeto, è importante tutte le partite. Da quando sono andato all'Aquila ho detto ai ragazzi che bisogna giocare partita dopo partita e non guardare nemmeno i risultati di altri. In questo momento dobbiamo pensare a questo e oggi sono contento perché abbiamo fatto una grande gara. Abbiamo fatto una gran partita con un avversario di valore assoluto. Sono molto contento perché la squadra ha fatto tutto quello che abbiamo detto di fare e abbiamo provato. Loro al primo tempo hanno fatto fatica a venirci a prendere e che riusciamo ad uscire abbastanza bene. Abbiamo avuto delle opportunità con Ragnieri, abbiamo fatto solo me un grandissimo primo tempo cercando di non buttare palla, cercando di giocare sempre. Al secondo tempo l'Aquila è salita un po' di baricentro, abbiamo perso un po' di lucidità però la squadra è rimasta sempre ordinata, compatta. Potevamo sfruttare meglio qualche situazione davanti ma sono molto contento della prestazione della squadra soprattutto perché dopo una settimana abbiamo fatto un miglioramento importante dal punto di vista del gioco e dal punto di vista fisico. Quindi sono molto soddisfatto della prestazione di oggi. È mancato un pizzico di fortuna perché il gol subito si poteva evitare, era una punizione a favore nostro. L'abbiamo sbagliato, non abbiamo attaccato la porta, la palla scorre e arriva al portiere poi sulla palla rinviata davanti, potevamo fare molto meglio. Purtroppo lì abbiamo sbagliato e l'Aquila chiaramente basta un'occasione, tica e stica. Però la squadra, ripeto, oggi ha fatto una partita importante contro forse la squadra più forte in assoluto del Camionato.